E tu sai che pensiero da oggi? C'è un prologo, eh? Elisabetta, eh... Maria Teresa non è bella, però a me mi piace. Io penso che l'ideale è quando trovi una brutta che ti piace. E che ci vuole a farsi piacere una bella? Quella brutta invece agli altri non gli piace, ma a te ti piace. E nemmeno ti sembra brutta, perché sennò non ti piace. L'ideale, l'ideale però, è quando trovi una brutta che ti piace, che tu gli piaci. Perché sennò, se a quella brutta non gli piace, ti conviene che ti piace una bella, se si tratta di non piacere. E non c'è vino e non c'è liquore, E non si fa mattina e non si fanno cuore. Se non c'è verso, non c'è costrutto, Di questa libertà, sai quanto me ne fonto. E non c'è comico e non c'è sfizio, Non c'è farmaco, non c'è vizio, Non c'è novità. Non c'è canzone, non c'è romanzo, Non c'è veglione, non c'è pranzo, Non c'è comodità. Ma c'è una musica più o meno, Va, 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 Senza parole, Va, 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 E c'è una gomma, pure quella, Va, 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 E' un vento che la alza, Va, 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 Maria Teresa, bella, Maria Teresa mia, Restiamo un altro po' Soli io e te.